Tra breve sarete contattati con richieste e istruzioni. Il vostro obiettivo è negoziare con la liberazione dei testaggi. Buona fortuna delegati. Ma tu ancora... Ma guarda come tu parliate. Ci sono abito che... Ma guarda come si bagliate. Cosa dovremmo fare qui? Fare questo dipende soltanto dall'esito dei negoziati. Certo, allora... Tutto quello che dovete sapere è questo problema. Darò ai delegati dieci minuti e poi farete la prima telefonata. Il signor Holmes sarà seduto per fuori. Se avete domande, lui vi guarda la porta. Vuol dire come? Grazie. Signor Holmes. Signore Watson. Ma ci stanno pure un tatto che ha cercato di questo. Oh, ma tu. Che strano, è un dito che fosse sempre la mia? Mi ha vogliato tutta. Signore e signori, attenzione, forse abbiamo il primo contatto. Siete in viva voce. Prego, potete parlare. Salve a tutti. Le condizioni qui sono insufficienti, ma teniamo duro. I sequestratori non ci rilasceranno finché le Nazioni Unite non conficceranno i paesimenti a distruggere tutte le anti-napleari. Vi contatteremo di nuovo tra mezz'ora. No, come sto bagliando tutto. Basta, Leo, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta. Ha ragione, siamo inglesi. Esatto.